guarda che marchieri è il prossimo che manda la mail se non gli dai soldi ti sto aiutando dicendoti questo attenzione successo per battista più 5 the great cali the great cali ragazzi the great cali apri ste gatti di mail e ricordiamo che se non c'è il punto esclamativo è qualche altro infortunato quell'omino lì dovrà lanciare la monetina è qualche altro infortunato guarda ecco è tutto esclamativo ma moneta chissà dove sarà il prossimo andarsene ACW rimane con un pugno di mosche un plauso al buon Jack che ha inventato la moneta ma certo ha inventato la moneta non ci sarà nessun punto esclamativo in ACW neanche in questa cazzo in serie un dollaro argento quindi decidi tu la testa di di John Morrison di George Washington che cos'è testa lascia testa varo voce rimane testa varo poi lanciata tu girala bene però non come l'altra volta non c'è la tua che sei in tre e mezzo che non sei in tre e mezzo no perché è tra noi due testa varo testa varo Calì è ACW madonna se ti è andata bene stavolta Calì adesso ti massacro figa mi hai rotto i coglioni ma può darsi che Calì vada a Smackdown andrai in un bel pay per view super hardcore ti infortunio il naso ancora stai fuori nove mesi figa piuttosto e partorisci anche ti metto incinta il naso filley ma dai filley lo so che arrivi da ACW e ACW era orrendo ma cosa dici ma qui devi fare grande successo devi fare grande successo filley io non ho la mail porca eh no è arrivata a me la mail una mosca ah ma da un terrofeone ci sono le ragazze no ma te penso e secondo te la ragazza porta i fiori alle ragazze al ragazzo no eh no l'immagine parla chiaro saran lesbiche eh ma non andavano di moda nel 2008 eh non andavano di moda più due per CM Punk tocca ACW grande successo Markkney eh meno male per il fine dove è arrivato 66 e comincia a essere abbastanza stanco grande successo così si fa filley più 4 tocca ancora a me vai filley non mollare è matica 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 è impossibile che faccia ancora più 4 però più 2 ha fatto pep Kenny o Gregory Elms hanno bisogno ma io l'ho già fatto prima è salito eh chissà com'era prima ho trovato una batteria quindi dai tra 61 74 79 62 sniski non fatelo eh bisogna cambiare tutti e due di solito facciamolo a sniski va sniski grande successo eh vabbè sta minchia quindi li ho usati tutti e 16 fatal 4 way edge nitro rick flair e sabu triple threat femminile ashley candice e mickey facciamogli fare una bella intervista così mi sale un po' di popolarità edge che ho bisogno di riportarlo un po' in alto john cena contro stonecoast e bustin un tag team corvone e cm punk contro i fratelli ardi devo fare un po' di soldi quindi promo pubblicità e il main event scarso però devo mettere da qualche parte carlito mvp e riga edge e nitro eeeh sabu e cazzo sto dicendo edge e nitro fatal 4 way il sabu è edge sabu edge il cyborg non molla ashley candice uh io becco quelli che sono schienati stonecold lina ah dai marco scorvone e cm punk yeah smackdown is regal carlito ah attenzione sivuple giocare fuori casa cos'è giocare fuori casa al pubblico piace veder vincere il suo eroe local ma io non ne avevo potresti notare notare anche un aumento degli ascolti andiamo sempre utile eh jbl andiamo a vedere c'è non lottano i tuoi fanno finta appunto ragazzi eh 71 70 scusate ma dov'eranno i tuoi fino adesso in ferie e mickey lei indietro non posso fargli fare data trofeo a uno mvp bene e regal bene bene e poi va bene così basta che cazzo di match ti fai fare chi mangia più pizza chi fa più canesti il cazzo troppo è mvp ha ragione hai ragione è scritto fare data trofeo è mvp perché cos'ha è sotto di polarità ma è scontento per quello perché perde perché perde perché perde ma perché è scarso e CM Punk perché perde perché ha perso anche lui ha perso anche stavolta eh no invece vuole l'oro CM Punk ma se fino alla penultima rivalità c'è la CM Punk eh vi dargli l'oro almeno il tag team e il meno eh sì almeno quello tag team andrai per il titolo metteremo i titoli guardate un allenatore vero un allenatore di Pokémon e sarà coso Coachman ah no aspettatevi a giocare fuori casa anche tu le percentuali sono ancora uguali giusto sì 882 vediamo davidoli.com attenzione numero di fan variato RAW più 70.000 e si vola e si vola più 70.000 ECW anche 3 stelle 3 stelle ECW RAW 3 stelle eh non si vola mica tanto con 3 stelle SmackDown 3 stelle Semana statica per tutti e gli ascolti ah Cristo mi sono già dimenticato tutto ci ripartiamo allora 70 oh è zecato 3 stelle 3 stelle vediamo ECW fan 2.280 RAW 3.590 che distacco SmackDown 3.200 mamma mia RAW ROVOLA RODOMINA hashtag RODOMINA RODOMINA ragazzi fan eccoli qua ah ma mi è ECW cioè ECW no però ECW è lì è lì è lì non va su non va nessuno né giù mentre SmackDown pare stia scendendo perché se io riesco a tirare su anche quelli faccio match perfetti Power 25 ancora Steve Austin in prima posizione John Cena seconda posizione da sesto The Rocker rimane in terza posizione The Undertaker scende in quarta posizione Edge scende in quinta posizione Triple H SBK salgono Roddy Piper scende Bret Hart rimane lì Battista sale da 25 ragazzi da 25 in nona posizione Ray Mysterio scende Chris Master sale ragazzi Mr. Kennedy sale Umaga rimane lì Mick Foley e Terry Funk salgono Kim Buker e Torri Wilson scendono Carlito sale Chavo Guerrero sale CM Punk e Marcus Corvone entrano e si piazzano in diciottesima posizione Ric Flair sale Melina sale GTG e Shard scendono Mai Tardi e Jeff Hardy scendono Michelle McCool scende Kelly Kelly scende e Bobby Leslie in ultima posizione ovvero 25 andiamo a vedere le stelle degli show Ro 3 stelle e vai avanti però 3 stelle e mezzo quello femminile ragazzi 3 stelle e mezzo 3 stelle e mezzo e 4 stelle Dead Rock versus The Undertaker ma Cristo cos'è il mio controller qui no cos'è si è giusto ok ICW match 1 2 stelle e mezzo 2 stelle e mezzo 3 stelle 3 stelle e 3 stelle la media non era proprio 3 stelle esatto qui imbrogli anche con le stelle ma a me si fai schifo smerdown 3 stelle 2 stelle e mezzo 4 stelle 3 stelle e 3 stelle insomma sono ancora lontani oggi invece evento attività per noi mentre Peppigno dovrà fare lo show show quindi le mie rivalità proseguono Finley è a 72 e lo facciamo salire ancora il mese di Finley lo chiameremo neanche alla settimana il mese di Finley se arrivava Greca lì c'era anche il mese di Greca e per forza il resto che hanno una probabilità 50 devo pretendere di fare 4 stelle è bello che ne fai 3 dai per piacere vai Filly successo più 2 e va bene sezione hai finito il contratto di Ice ma vaffanculo ma scade fra una settimana va bene guardi ci sono ancora giusto perché sei in rivalità ci sono ancora Superstar senza contratto da prendere eh non ho i soldi a tutti quelli che avevamo le leggende appena avrò i soldi comprerò anche quelle e Ron non lo fermerà più nessuno più nessuno quest'anno la vittoria in mano successo più 5 ICW è pronto per il pay per view incuriosire un attimo allora qua Helms Ladder Ladder perché non c'è il coso dietro Elijah o Helms continua a scendere Elijah bene Arco e Elijah però uno dobbiamo giocarlo eh non questo no Arco 3x3 Roddy Piper mi hai messo dietro questo che non c'entra niente dai dai sto pronostico di micchia Piper che è giovanissimo guardalo com'è sembra un bambino eh quando ha fatto il film si vivono è molto infatti vedi Mark Henry questo lo giochiamo perfetto Elin e Ser 333 Battista Kane e Leslie lo giochiamo subito? si può giocarlo dopo averlo simulato io faccio Battista ok devo scegliere prima io che sono nel rosto io faccio quello che rimane io faccio Kane io faccio Battista allora eh io faccio Bobby Leslie Royce Battista oggi c'ho anche la maglietta di The Animal Battista The Animal The Animal hai la maglia di Legion of Doom no quello è The Animal no ok Animal di Washington D.C BOOTISTA BOOTISTA voglio la smitragliata voglio la smitragliata voglio la smitragliata non la fa non c'è non la faceva è impossibile voglio la smitragliata vabbè ha fatto PIROS come l'entim proprio e si va a vincere ragazzi si va a vincere non mi ricordo più i tasti ma si va a vincere più bello così completamente a caso dovrai che vincerai BOOBBY LESLEY l'animale and the opponent and the animal and the animal and the animal and the animal Dominator from Colorado infatti lui è Colorado allora questa un saluto a tutti gli amici di colorati questa è una bella però deve scherzare chi è Bobby LESLEY scusi ma la sua non l'abbiamo guardata tutta ma c'era la smitragliata anche lei e cosa è che c'ha Kane niente eh no non lo guardi anche Kane l'animale tutti gli animali Daniel la smitragliata la smitragliata un sorriso un sorriso ma qui era la red machine o il most no la big red machine la big red machine ma da dove viene Kane non mi ricordo da Dead Valley no è insieme a fratello no o lui è nato da un'altra parte fratello è nato da Dead Valley lui è nato Born e lui è nato una Born Valley è nato nella Born Valley e il fratello è nato da Dead Valley chi sono io Ashi attenzione Battista ma che cazzo stai in la sede no 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 usa le frecce ma io sono ok io sono ok in vero perché si muove perché però non devi usare le frecce però anche il mio tartufone ha dei problemi no cominciamo per favore fai B fai B rosso rosso ridicolo dai che abbiamo resistito fino ad adesso dobbiamo utilizzare i colori fai B scusate ragazzi come si fa si è no si è dobbiamo utilizzare i colori ma prendine uno dio ma guarda che potenza che ha Bobby Leslie Bobby Leslie mi trapassa che è il senso farmi niente che bestia ti ricordo che mi potresti infortunare non è il caso venga non mi ricordo come si fa cambiare però il bersaglio cristo santo guardate io ora basta ho visto che sono quella chi se la vive chi è Taz scusate 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 becker breaker in arrivo ah no sidewall slam di Battista come si fa a schienare dittemelo con B credo a saperlo il rosso a saperlo 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 salta da lì Bobby come si fa con x col blu bluetooth eeeh laaa ginocchia partite di Bobby Lashley oh ma la smetti fermano per piacere che mi sta grattugiando la testa voglio fare un salto a saperlo e via così continua la distruzione il proprietario del roster non si preoccupa che Lashley potrebbe infortunarsi ma niente così è giusto ma fa salire su il coso con questo io voglio buttare giù la gabbia ha fatto un po' di tempo e lì ha venuto prendere il suo obiettivo il suo obiettivo una volta una volta dove l'hai buttato come back di Battista mi copio anche le mosse mi copio e niente non riesco a fare una mossa e niente non riesco a fare una mossa la saperla qui il suo obiettivo potrebbe non avere una mossa e niente mi hai preso poi incredibile no Kain no porch uuuuuuuu c'è il kick-out di Battista che è abbastanza in difficoltà e ora probabilmente sarebbe in una saperla e qui l'ho fermato mezz'ora fa no 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 cristo priserico l'unico che devi dire no sono io oh finalmente uno si uscito a reversarla che non sei capace che non sei capace maaaaaa è andata via la finisher ma non ci posso credere non riversa mai le mossa quando non deve riversarla non la reversa con ix con il blu uuuuuuuu 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 Battista esce lo schienamento di Bobby Leslie uuuuuuuu 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 uuuu uuuu vabbè la prima volta sta uscendo un gran bel match eeeh cosa fa ancora questo nel primo saga sottomissione potrebbe no uuuu vai stai giu mb uuuuuu uuuuuuuu l'achop bulldog di Bobby Leslie ancora si ostina acia fila b b b bava BABBY LESHLEY! DAL DAL RING! Al posto di aiutarmi! DAL 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 Tant'è che qualcuno venga! Grazie BABBY LESHLEY! Grande! Kelly Kelly Mi manca un po' Kelly Kelly Faticata! Randy Orton Un maga E Randy Orton manda la mail Se puoi Meno male Main Event titolo! Battle Royale a 4 uomini Nick Foley perchè è origine? Cali Io dico Cali E! Kenny Dijkstra Campione! Che non si è lamentato di un cazzo Ha vinto! Ma va a fanculo Guarda la mail E niente mail ragazzi! BABBY LESHLEY ho il match della serata Ho avuto la chance quindi dovrebbe star bene adesso Meno 125 Meno Ha 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 Quattro stelle Oh la la Quattro Grazie a noi eh Eh il cazzo Ho fatto il match superiore Supremi Tutti eh cazzo Il nostro Il nostro sarà 5 stelle L'unico che ha cambiato è lui eh No ma anche i fan No le stelle dico perchè ha fatto il pay per view Quindi andiamo indietro? Eccola! Eccola ragazzi! Aspetta! Oh! L'avevi detto tu Ci sono distrutti Eccoli qua! Attenzione! Kane! Polso slogato 75% Per 3 settimane Però può lottare eh E nonostante tutto sei rimasto a 2 E BATISTA! Anche lui! 75% alla schiena 2 settimane E Mark Henry Te l'ho detto che se non gli dava i soldi si lamentava Non glieli dati Adesso meriti Che quest'uomo qui Venga a SmackDown! Vada a SmackDown! Adesso non li vuole più È troppo tardi Non li vuole più Non mi hai ascoltato Amata la mail e sbutta i miei soldi Non mi hai ascoltato? La? La mia popolarità? No fammi leggere Cosa che dice? La mia popolarità è all'estrella tempo Ma vengo ancora pagato 4 soldi Dovevo incontrare il contratto Vedi l'ho detto io Non mi ha voluto ascoltare E Mark Henry Prende le sue cosine Borsa e eh Martello Martello E via! Ferro dai vai! Ferro dai vai! Ma guardate come sono in salute! I wrestler di Sembra di vedere SmackDown! Wow! Queste quattro stelle ti sono costate eh! Ti sono costate! Dai dai! Danno avanti! Ragazzi la quinta parte è già finita qui! Quindi noi ci vediamo settimana prossima per la road to vengeance che è il pay per view mio ragazzi! Quindi tanta tanta roba! E durerà anche un bel po' questa road eh! To vengeance! Perché sono tre settimane! Tre settimane! Per oggi è tutto! Vi ricordo come stiamo di lasciare un voto a questo video! Iscrivetevi al canale sempre se lo avete ancora fatto! Io vi ricordo i nostri social! Il canale telegram! La pagina facebook! La pagina instagram! E addirittura anche il redivivo facebook! Io vi ricordo che il nostro direttore qua ha aperto un nuovo negozio! Infantizing! Esatto! Un nuovo canale! Dalle urine! Quindi se volete iscrivetevi anche di là! E così se andate tutti i 15.000 di là! In un attimo arriva a 20.000! Ci sono un po' una piega! Quindi per oggi è tutto! Dall'Artevice a Jack! Lo specialista Michel! Dall'eremitta a Pepigno! Alla prossima! Ciao belli! Ciao! Ciao!